gentili telespettatori buona giornata un giornale di destra dice scrive che massimo giannini il direttore della stampa sarebbe il pinocchio della sinistra cioè quello che dice bugie a nome per conto della sinistra e elenca quattro grosse bugie che sta dicendo andiamo a vedere se realmente è così io vi dico adesso se realmente possiamo definirlo un pinocchio metà pinocchio o per nulla pinocchio allora lui è andato a che tempo che fa da fabio fazio e ha fatto il duro attacco al governo beh questo era era ovvio lui è bellamente schierato a sinistra tranquillamente schierato da quelle parti bene una contestazione al governo che dicono mirato a delegittimare la meloni beh andiamo a vedere naturalmente lui tira fuori sempre il nostalgismo nostalgismo canaglia no come la canzone nostalgia tira fuori sempre questo argomento costruendo questo nemico da abbattere ma non è che solo lui fa così tutta la sinistra che non ha argomenti non ha proposte che cosa fa costruisce il nemico sono loro sono tornati dal ventennio quindi sono da cancellare dalla politica questo è il live motive che unisce tutta la sinistra allora la prima bugia sarebbe questa io ve la leggo poi vediamo se è davvero una bugia dice che il paese è infiammato davvero il paese è infiammato c'è c'è crescita economica dati anche dai benefici del pnrr il paese è infiammato realmente no quindi il paese non è infiammato il paese infiammati sono alcuni di sinistra che creano su un polverone facendo facendo proteste andando a fare le manifestazioni antifa tutti i sabati sindacati conte fanno delle manifestazioni basate realmente sul nulla sinceramente ve lo dico da andare a protestare per protestare la protesta la si fa solo se c'è veramente e si va in piazza solo se ci sono davvero dei motivi gravi se tu vai in piazza ogni sabato e fai la protesta in piazza costante ti definisci da solo ti squalifichi nessuno ti crede più poi quando c'è da fare veramente una protesta per una cosa importante la gente non ti dà più neanche retta se sei in piazza tutti i sabato parlando di di paese infiammato quindi paese infiammato no caro giannini è falso e poi andiamo a vedere quale sarebbe la seconda bugia il governo nega la registrazione ai figli di coppie eccetera eccetera il governo sta calpestando la costituzione davvero il governo sta calpestando la costituzione in realtà nella costituzione non si parla di questo argomento ma neanche indirettamente no ma lo lo dice indirettamente no neanche indirettamente perché nel 1948 un argomento di questo tipo non esisteva cioè era un argomento proprio che non che non che non c'era non lo potevano neanche immaginare la corte di cassazione con la sentenza numero 38 162 si esprime sul punto giudicando illegittima una prassi adottata dal sindaco di milano quindi i fari poi sulla questione sono accesi sulla magistratura della magistratura e non dal 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 governo quindi anche questo che la costituzione che calpesta la costituzione anche qua devo dirvi non è vero quello che dice giannini quale sarebbe poi la terza bugia secondo libro quotidiano non è vero che l'autonomia differenziata lede la costituzione discriminando una parte del paese allora su questo punto devo dirvi la mia l'autonomia non lede la costituzione va bene non è vero che discrimina una parte del paese dipende come fai l'autonomia dipende cosa metti dentro questa autonomia quindi che l'autonomia va contro la costituzione è falso che l'autonomia discrimina una parte del paese questo bisogna vederlo bisogna vedere il testo dell'autonomia quello che dice quindi su questa terza presunta bugia di giannini possiamo dire che se giannini dice che la costituzione che l'autonomia è contro la costituzione perché lede i diritti del centro sud italia non è vero però tra parentesi vi dico io bisogna andare a vedere poi quale sarà il testo di questa costituzione e vedere se è veramente lede i diritti del centro sud italia allora a quel punto vi dico io sono il primo che non va bene perché non ci devono essere disparità la famosa secessione economica dal nord leghista dal centro sud no quindi su questo se giannini dice che va contro la costituzione è una bugia poi bisognerà vedere come e realmente verrà fatta questa se verrà fatta perché andando al referendum parliamoci chiaro il referendum non si va da nessuna parte quindi non verrà fatta e poi andando a vedere questa quarta bugia il problema del caro affitti lede il diritto costituzionale allo studio l'articolo 34 della costituzione provvede politiche attive di sostegno da parte dello stato solo ai capaci e meritevoli e non a chiunque il diritto allo studio è garantito innanzitutto dalla presenza diffusa sul territorio di università pubbliche tra sedi principali e distaccate è garantito attraverso il finanziamento pubblico delle università una quota delle tasse viene pagato dallo stato per fasce di reddito il problema del costo elevato delle delle degli affitti il caro affitto nelle grandi città soprattutto perché se voi andate all'università che c'è da non nelle grandi città ma nelle sedi distaccate il caro affitti non c'è ecco se voi andate a milano allora il caro affitti c'è se andate in un'altra sede distaccata il caro affitti non c'è quindi avere l'affitto avere l'affitto basso che significa diritto allo studio il governo si sta adoperando per creare decine di migliaia di posti per far alloggiare gli studenti quindi che il caro affitto leda il diritto costituzionale allo studio realmente non è colpa né del non è colpa del governo meloni ma quindi il governo meloni non sta alimentando il caro affitto per ledere il il diritto allo studio quindi anche questa è un'altra bufala ha ragione libero quotidiano a dire che giannini è il pinocchio della sinistra devo dirvi di sì arrivederci a tutti e grazie